musica 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 bella raga siamo in un nuovo episodio dei survival games nella mappa vita cosa ma che ma perchè non riesco mai a giocare questa mappa appena entro appena entro appena entro si sfapa tutto mi manda alla UB si visi visi allora entriamo in questo intanto allora oggi è 14 novembre giorno del mio compleanno a lei xdxd tanti auguri a me xdxd allora parliamo di di regali diciamo tecnologici allora quello di cui vi voglio parlare è di un nuovo mouse un mouse da gaming è un mouse da gaming è della marca ed cats per chi non lo conoscesse è una marca di accessori per il gaming tipo mouse cose così io ho il modello r puntato faccio prima scriverlo questo è rat3 è un modello di mouse è un mouse molto buono di fascia di fascia medio alta e cos'altro potrei dire che ci sono anche altri tipi di 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 questi mouse che sono il rat il rat chi si frega il rat 5 e il rat 7 che sono migliori del rat 3 sempre migliori e poi c'è il rat 9 che è quello wifi solo che molti molti non mi hanno detto cioè allora concentrato parla in italiano ho letto le le recensioni quelli che l'hanno provato dicono che comunque costa molto perchè è il migliore della serie rat però non è un gran che perchè comunque si è wireless però rispetto agli altri tipi sono migliori quello tipo che io e dammi almeno lo strict quello con l'accelino non mi trovo ehm si comunque sono molto fiero del del regalo insomma cesta yes ah per me ho cercato la cesta un po' utile grazie è la mia torta di zucca che si trasformerà in una spada in pietra riuscire a killare questo faber qui ciao faber com'è che ti chiami? faber xd1 1 surprise ti sei spaventato ah mi stavano uccidendo anche da sotto noo che noo che peccato ah ma erano in team peccato penso a vedere il fatto yeah xd xd l'ho killato però boh prendevo danno penso a me perchè l'hanno mascherato l'hanno mascherato i suoi pugni e quindi fap va dopo ok ok allora adesso siamo nella mappa holiday resort non per fare una vacanza ma per non nemmeno per ammirare il faro ma per no team d3 per vincere per vincere si questo è l'obiettivo primario no no se adesso ti desi di qua p ahah cosi cosi inferno cosi cosi inferno ahia mi hanno dato un bel paio di spadate prima che riuscissi a scappare ti odio wow vai via c'era un ascia che figo no alla spada alla spada porca miseria pensavo avesse lo steak porca miseria me ne sono accolto tutto troppo tardi mannaggia non è giusto è tutto un complotto ok stavolta siamo nella mappa valessa di university in team con danny danny style eeeh sterminio un altro italiano che è da qualche altra parte cerco di non rubarci la città quindi ah mi ha rubato una patata iiii quello lacciarino ho perso danny danny style ho perso danny danny style ah ecco sterminio gioco quasi full iron ah la spada ah la spada ok andiamo a killare questo dai io che voglio una spada anche io no venite ma ma no la voglio io la voglio io tieni siiii andiamo che voglio chiedere qui no ma quello non è danny quello dietro si è danny questo no ma adesso morirà male anche a costo di perdere di vista da anni fa per esterno proprio morirà male tipo peggio squartato così yes corri siiii non fermarti e questo non fa per e ne approfitta sai che ho il mouse nuovo? eh eh ti killo ah lo killato io penso di essere morto oh no oh non ci sei comunque questo era almeno fatta per degli altri che mi scatti dalla foto quindi io sono fatta ma sono ancora vivi eh ho perso sì ci incontriamo dopo eh sì è l'unico perchè andrò a cercare lì va bene bene che sono sono morto no sono vivido adesso prendo prima questa e poi quella lì 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 niente prendo questo ok i pantaloni lì ho? forse sì no lì ho messo un messaggio di schifo proprio lol e boh adesso continuo un po' a cercare i gesti c'è roba non ho preso alcuni sti e alcuni no di gesti ah sono morti no stermini è morto danni non ho ancora leftato quindi sto aspettando questo è poco ma sicuro o forse è fermo inspecting che non fa niente dubito altri biscottini fortunati no per il deathmatch 5 tributi boh c'ho qualcuno che sta facendo strage guarda la cesta ho visto la cesta ho fiutato la cesta niente ho fiutato male adesso vado allo spawn per vedere chi c'è cosa c'è che cosa succede oh ok un lingotto di ferro un'altra mi fetch la spada in ferro la spada in ferro si invece con uno solo non faccio niente esatto quello intendevo e con due oh cavolo una leftat spada in diamante ecco sterminio spada in diamante sono full iron bro non me ne frega di di della roba che hai tu lì do un lingotto di ferro c'è una mela d'oro poi questo ecco qui ah che fortuna ah che fortuna niente vedi allora gli do anche le fre- no vabbè non ho arco qui qui vai arco allora questo via via me lo dai uno no vabbè dai tienitele tutte tanto io ho la spada in diamante e sono equipaggiata molto meglio like a boss ok ok anche questi li butto voglio farmi anche 50.000 acciarini voglio la selge ok tre acciarini ottimo un attimo che crafto vieni un attimo e dai mannaggia dai che cavolo di lag 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 niente acciarini me li potevo fare nell'inventario si però vabbè ah pensavo che stessi laggando niente mi riprendo i lingotti alle cose ok cosa ok cosa ciao ah forse era su skype forse si che c'è che c'è che c'è no l'odio 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 ti odio nooo lo sapevo che fappone anche io dopo mi gira e lo scoppio solo perchè ho provato a a uccidermi ehm ho il mouse nuovo poi eh come se fosse tipo l'arma imbattibile con chi con cui chi lo ha vince tutto non ho idea di dove sia però ah se è un fappone io ne ho di più su ah mi vuole spingere nel fuoco eh eh non ci casco forcefieldone dei miei stivali ah 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 su ah un cuore fuga no 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 non mi piace c'è ha preso anche danno chissà perché boh non mi piace per niente questo duello ah accidenti come recupero un po' di vita dai ah ecco mi sta inseguendosi ok devo recuperare tutta la vita e poi riprovo a duellare con lui sembra tipo yugyo duelliamo si numero 39 utopia com'è questa sia utopia era ah accesso che figo xd adesso sarebbe giusto il momento giusto perché arrivasse un fapper un terzo fapper e questo sarebbe una specie di 2 contro 1 perché io nascondo la spada in diamante e però non mi sto nemmeno più inseguendo niente proprio è lontano due chilometri sarebbe tipo epic la cosa più epica di sempre tipo un 2 contro 1 yeah ecco qui sei ti voglio ti voglio ti voglio pillare magari si impaurisce eh sì questo sicuramente eh sicuramente ma sono sicuro 200% adesso che tipo ninja o peggio ninja forever and ever eeeh fa tipo l'assalto e mi kill l'assalto ninja e mi kill questo è sicuro quindi boh sto un po' qua in alto non mi ne sono italiani che si ribellano eh si ma allora tanto non è così secondo me era troppo tipo troppo genio quello visto che mi chiudeva la porta in legno in faccia non potrei più uscire eh ah sicuro eh ah sicuro eh codardo che è sterminio sterminio ah nessuno bounty pnv scarecrow non ha nemmeno i zero bounty cioè vabbè ho bisogno di un arco e di un po' di frecce e comunque avete visto i miei cerini mi hanno salvato la vita visto che l'unico che avevo non serviva niente adesso ar info allora timelift 17 minuti 5 partecipanti uno spettatore uno spettatore e dai dov'è e non dice non dice nemmeno cos'è che vuole sapere eh sì quanto tempo manca al al refilm dovrebbe mancare poco eh sì dovrebbe mancare molto poco ecco eccolo eccolo olè eh sì non sa fare nemmeno i 360 beh in teoria nemmeno io ma vabbè si sveglio eh si sveglio eh olè eh sì aspetto che vada vada nelle ceste così ok surprise ecco qui adesso me ne vado via e voglio fare un uno contro uno serio perché allora non ha senso andare al allo spawn cioè potrei prendermi solo mele d'oro nient'altro di utile però avrebbe senso sì per le mele d'oro ma devo fare una cosa veloce devo fare una cosa veloce perché ce l'ho dietro sì è un uno contro uno allo spawn è molto meno secondo me secondo me secondo me quindi sì vado allo spawn spero che ci sia un terzo qui purtroppo non c'è un terzo non so nemmeno che sono allo spawn guarda te c'è troppo sveglio sicuramente una spada in legno c'è già stato qualcuno l'accerino l'accerino lo voglio però l'accerino non sono molto intelligenti perché gli accerini sono un'arma molto potente a mio parere eccolo lì surprise bro surprise mi ha tolto solo un cuore anche lì alla spada in mente ok ecco fatto ah Danny Danny Style gli ha dato dei bounty no la spada la voglio ok poi voglio le mele d'oro ok thank you very much anche un diamante quasi quasi mi faccio la spada in diamante però c'è la pala in diamante la spada non è che abbia tanto senso vediamo un po' l'inventario che noi siamo messi arco quello qui frecce non ne aveva più ah no ne ha 24 ancora me ne ha scagliato mi sembra 6 forse eccolo qui eh sono più bravo io con l'acciorino sai adesso sono peggio sniper cosa credi di fare? eh l'ho presa con una sola freccia dai best duello EU mi viene voglia proprio di di scrivergli vieni codardo ah allora bravo geniaccio dei miei stivali? vieni vieni arciere accidenti l'ultimo acciorino no ho preso fuoco no cavolo sono bloccato un cuore e mezzo ho preferito giocarmela così che che così diciamo di scappare di nuovo perchè ho fatto